Polizia locale e sicurezza, novità sul nostro territorio, nell'Unione insieme su Serio arrivano i vigili di quartiere, più agenti e telecamere in Val di Scalve. In Val Seriana altri tre comuni si preparano a differenziare meglio i rifiuti, da marzo Colzate, Fiorano e Vertova introdurranno la raccolta dell'organico. Ad Ardesio la scassata del Senerù quest'anno si colora di nerazzurro, venerdì il Fantoccio proverà a difendere la porta dell'Atalanta per sfuggire al suo destino. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca, un uomo di 65 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava sul Monte Farno in territorio di Gandino. L'intervento dei soccorsi non è purtroppo bastato a salvargli la vita. L'allarme è scattato intorno alle 13.45. L'uomo, un escursionista di Cene, sembra fosse diretto al rifugio Parafulmine quando nella zona dell'Alpe per Gallo ha accusato un malore che gli è stato fatale. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 di Sondrio, il 65enne è poi deceduto all'ospedale di Piario dove era stato trasportato in codice rosso dall'eliambulanza. Cambiamo argomento, ha cambiato guida la Polizia Locale dell'Unione sul Serio che lo ricordiamo comprende i comuni di Casnigo, Gazzaniga, Nembro, Pradalunga, Selvino e Villa di Serio. Il nuovo comandante ha già introdotto novità significative, lo abbiamo intervistato. Ci troviamo al comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni insieme sul Serio e siamo con il nuovo comandante Marco Pera che è entrato in servizio da poco, dall'inizio dell'anno. Vorrei anzitutto permetterle un po' di presentarsi e raccontarci un po' di lei, della sua esperienza, prima di arrivare qui al comando di Nembro. Innanzitutto buongiorno, grazie. Io arrivo dalla Polizia Locale di Milano dove ho prestato servizio per sei anni. Prima ancora di lì un'esperienza nell'arma dei Carabinieri per altri dieci anni. Poi una breve tappa al comune di San Giuliano di pochissimi mesi per approdare qui all'Unione sul Serio. E com'è stato il primo approccio? Molto bene, è un comando già ben strutturato con 20 agenti, sei comuni da gestire, non una cosa facile, ma con le persone che abbiamo a disposizione si può fare tranquillamente. Parliamo appunto del comando, come è strutturato, ci ha parlato appunto degli agenti, parliamo anche dei mezzi, delle dotazioni che avete a disposizione. Allora, innanzitutto da quando sono arrivato ho messo in atto una riorganizzazione del comando dividendola in tre unità operative per una migliore gestione del territorio. Quindi abbiamo creato una unità di Polizia Amministrativa, una di pronto intervento e un'unità centrale operativa. Nello specifico la Polizia Amministrativa saranno quelli che comunemente verranno chiamati i vigili di quartiere, con la possibilità per tutti e sei comuni dell'Unione di avere un vigile assegnato per tutto l'arco del servizio, cosa che prima purtroppo non accadeva in questa modalità perché erano su pattuglie. Quindi adesso prenderanno servizio appiedato con due agenti per ogni comune e saranno sempre quelli, in modo che diventino una faccia amica per il comune. Poi abbiamo instaurato l'unità operativa radiomobile che sarà il vero e proprio pronto intervento con tre pattuglie che copriranno tutto il territorio dell'Unione alternate sui due turni di servizio. È la centrale operativa per la gestione delle chiamate e delle emergenze. Con lei vorrei dare un'occhiata anche all'anno appena trascorso, il 2019, a fare un po' il bilancio degli interventi che il Corpo di Polizia Locale ha effettuato, iniziando magari dagli incidenti e poi dando un'occhiata anche alle sanzioni. Nell'anno passato il Corpo è intervenuto sul rilievo di circa 150 incidenti, di cui la metà con feriti, quindi è un dato molto importante per questo territorio. Ci indica che bisogna sempre stare prudenti alla guida. Fortunatamente abbiamo avuto soltanto un incidente grave, ma non gravissimo. Per il resto, piccoli tamponamenti, nulla di estremamente grave. Però è indice di una disattenzione comune alla guida. Per quanto riguarda le sanzioni? Le sanzioni nel 2019 sono state circa 7 mila di varia natura, comprendono tutto quello che è nell'arco del codice della strada, quindi dai divieti di sosta, gli eccessi di velocità, mancate revisioni, mancate patenti. Per quanto riguarda la velocità, solo con lo scout speed bisogna dire che su queste 7 mila sanzioni solo un quarto corrisponde al rilievo con il sistema scout speed, quindi su 7 mila circa 1.400, una percentuale bassa rispetto a quello che si possa pensare. E l'unità operativa di Polizia Amministrativa dell'Unione Insieme Sul Serio durante un controllo programmato sulle attività commerciali ha sorpreso tre cittadini pakistani dediti a volantinaggio nel territorio di Nembro. I tre sono risultati lavoratori in nero, privi di qualsiasi vincolo contrattuale e assistenziale. Gli agenti hanno poi accertato che gli stessi stavano effettuando la distribuzione per una ditta bergamasca che si occupa di consegne e distribuzione di volantini pubblicitari. Durante il controllo dei documenti e del mezzo di trasporto, un furgone di proprietà e fornito dalla stessa ditta, il conducente ha esibito una patente di guida rilasciata dal Pakistan. Gli agenti hanno provveduto a un controllo più accurato del documento riscontrando che lo stesso era falso. Per il conducente è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per uso e detenzione di documenti falsi. Inoltre è stata applicata anche una sanzione pecuniaria di 5.110 euro per guida senza patente. Il mezzo è stato sequestrato, il titolare della ditta invece è stato segnalato all'Ispettorato del lavoro. E parliamo ancora di Polizia Locale e Sicurezza. Diamo spazio a questa intervista al Presidente della Comunità Montana di Scalve e Sindaco di Vilminore Pietro Orru. In Valle di Scalve state investendo sulla sicurezza? Sì, era una delle nostre priorità e ci siamo concentrati sin da subito affinché si potesse ritornare a pieno organico a servizio della Comunità Montana. Nel momento in cui sono stati unificato questo tipo di servizio in Comunità Montana erano tre gli agenti disponibili. Poi per una questione di mobilità interna uno di questi è passato a svolgere un altro tipo di attività, pertanto si è rimasti un po' scoperti e soprattutto nel periodo di massimo afflusso turistico c'era la necessità di rimpinguare l'organico, pertanto ci siamo attivati sin da subito affinché si trovasse un nuovo agente di Polizia Locale. Siamo riusciti a concludere l'iter non più tardi di un mesetto fa e dal 17 di febbraio finalmente avremo in organico il nuovo agente di Polizia. State investendo anche sulla videosorveglianza? Vogliamo continuare a investire nel settore della sicurezza, vogliamo che i cittadini della Valle di Scalve si possano sentire sicuri, non perché si abbia lo scrupolo e la voglia di costruire un cosiddetto grande fratello, ma perché effettivamente riteniamo che ci sia la necessità di controllare e videosorvegliare il territorio per rendere tutti i cittadini della Valle una vita in completa sicurezza. Pertanto abbiamo partecipato, abbiamo fatto richiesta di partecipare a un bando regionale che ci auguriamo di poter vincere, che ci darà la possibilità di implementare ulteriormente la strumentazione a disposizione della Polizia Locale, dandogli a disposizione appunto delle bodycam e delle fototrappole che andranno a implementare il servizio di videosorveglianza. Il presidente della comunità montana di Scalve è anche tra gli ospiti di Decoder, l'approfondimento condotto da Andrea Filisetti in onda questa sera alle 20.30 sul nostro canale 88. Durante la puntata di Decoder ci occuperemo anche delle esperienze in missione per giovani e adulti promosse dal Centro Missionario Diocesano di Bergamo che a febbraio promuove dei corsi di formazione specifici. A febbraio sono in programma corsi di formazione per giovani e adulti interessati a un'esperienza all'estero nelle missioni. Esatto, con il Centro Missionario riprenderanno le proposte formative rivolte ai giovani dai 18 ai 35 anni. Proposta formativa che partirà l'8 febbraio, si svolge prevalentemente il sabato pomeriggio dalle 5 alle 9 di sera e per gli adulti il percorso inizierà il 13 febbraio, quindi tendenzialmente il giovedì sera si farà la formazione dai 35 anni su senza limiti. Esperienze che porteranno i giovani a vivere un viaggio tendenzialmente nel periodo di luglio-agosto per una media di 25 giorni. Per gli adulti una proposta che può essere anche vissuta in due settimane, magari in missioni un po' più vicine al nostro paese per agevolare appunto tutti gli impegni. Un percorso formativo che aiuta sia i giovani che gli adulti a entrare nella sensibilità missionaria e per vivere al meglio l'esperienza appunto che si svolgerà nel periodo estivo. Cosa faranno queste persone nelle missioni? Sicuramente entreranno in relazione con i missionari bergamaschi che li accoglieranno e condivideranno con questi missionari la quotidianità, quindi accompagneranno nelle attività ordinarie delle loro missioni, potrebbero visitare sicuramente i villaggi più lontani appunto dal luogo in cui verranno ospitati, condivideranno appunto attività che possono essere di tipo aggregativo, educativo, che qualcuno magari se ha delle competenze nel campo sanitario potrebbe anche trovarsi a dare una mano appunto alle figure presenti in questi luoghi. E' richiesta qualche caratteristica particolare per gli interessati? Sicuramente la voglia di mettersi in gioco, di provare un'esperienza significativa, di entrare in relazione con persone che non conoscono, con culture che non conoscono e mettersi a disposizione un po' di ciò che l'esperienza chiederà loro, la disponibilità anche a lasciarsi un po' provocare dalle culture che incontreranno. In Val Seriana altri tre comuni si preparano a differenziare meglio i rifiuti. A partire da marzo Colzate, Fiorano Serio e Vertova introdurranno la raccolta dell'organico. Il cambiamento riguarda più di 9 mila abitanti, circa 6 mila utenze e, precisano i sindaci, non porterà ad aumenti della Tari. Incontriamo i sindaci di Colzate, Vertova e Fiorano perché in tutti e tre i comuni da marzo scatterà una novità che riguarda la raccolta rifiuti. La novità è che dal primo marzo, anche noi ci allineiamo a tutti gli altri comuni perché penso che ne siano rimasti pochi, alla raccolta dell'umido, la raccolta dell'organico. Nel 2011 tre comuni assieme avevano iniziato la raccolta con i sacchi trasparenti, la raccolta differenziata che si è andata perfezionando in questi anni. Adesso chiaramente bisogna fare questo salto di qualità della raccolta dell'umido che vada ad incentivare ulteriormente la raccolta differenziata e che comunque è più rispettosa sicuramente dell'ambiente in quanto viene riutilizzato proprio per questo. Naturalmente sono state programmate assemblee per dare tutte le informazioni ai cittadini. Esattamente, giovedì 30 c'è un'assemblea pubblica così da poter spiegare effettivamente anche con la partecipazione dei tecnici di GECO che è la società che gestisce la raccolta rifiuti come si deve raccogliere l'umido, quali sono le problematiche, ascoltare eventualmente le richieste ed aiutare e accompagnare comunque i cittadini in questa nuova fase di raccolta rifiuti. Si terrà nella sala delle pubbliche riunioni giovedì 30 alle 20.30, dopodiché durante i primi giorni del mese di febbraio verranno poi distribuiti anche i bidoncini, i raccoglitori proprio per l'umido. Da sottolineare la collaborazione su questo come su altri fronti tra i tre comuni. Questa collaborazione che è nata già qualche mese fa dove abbiamo pensato di unirci per cercare di ottimizzare i costi e i servizi e questa collaborazione nuova nata tra i tre comuni, Colzate, Fiorano e Vertova appunto, e che si andrà sviluppando anche per quanto riguarda la piattaforma ecologica, visto che anche lì abbiamo qualche problemino da sistemare e abbiamo pensato di farlo tutti e tre i comuni insieme. Ci sarà naturalmente un'assemblea anche a Vertova, quando e dove? Anche a Vertova ci sarà un'assemblea e l'assemblea sarà venerdì 31 alle 20.30 presso l'auditorium dell'ex convento, il centro culturale Testori. A Fiorano invece l'incontro con i cittadini c'è già stato, com'è andato? Bene, c'è stata molta affluenza, c'erano circa 300 persone e si è fatto una spiegazione iniziale di quello che è la raccolta dell'organico, per poi fare una panoramica su tutto il resto del ciclo di raccolta differenziata. Un altro tema fondamentale richiesto è stato quello, siccome a Fiorano c'è la detrazione del 25% sulla quota fissa della parte della Tari, è stato quello di sapere se appunto questa detrazione venisse tolta o meno e abbiamo confermato e confermiamo che la detrazione resterà perché è importante che chi ha già attuato questo sistema in passato continui a farlo, lo smaltimento del rifiuto organico seppur minimo ha un costo e quindi è importante che laddove si riesca a riciclare nella proprietà privata è bene proseguire su questa strada. Quali saranno i giorni di raccolta? Nel paese di Fiorano la raccolta, la frazione indifferenziata, la raccolta avverrà al mercoledì mentre la frazione organica verrà raccolta al sabato. Nel paese di Vertova e Colzate la frazione indifferenziata verrà raccolta al martedì mentre quella dell'organico verrà raccolta al venerdì. Mentre per quanto riguarda i mesi estivi, i tre mesi estivi quindi dall'inizio di giugno fino a metà settembre verrà raddoppiato il servizio di raccolta organica che verrà affiancato al servizio di raccolta indifferenziata che quindi nel comune di Fiorano è al mercoledì e nei comuni di Colzate e Vertova è al martedì. Per la nostra prima parte è tutto, adesso una pausa e poi torniamo in onda con il telegiornale. Riprendiamo con il nostro telegiornale. Quest'anno ad Ardesio la scassada del Zenerussi colora di Nerazzurro. Venerdì il fantoccio proverà a difendere la porta dell'Atalanta per sfuggire al suo destino già scritto ma lo sappiamo finirà come sempre bruciato in un grande falò. Sentiamo. Venerdì 31 gennaio ad Ardesio il rito si ripete, la scassada del Zenerussi quest'anno con un occhio alle stagioni particolari che sta vivendo l'Atalanta. Sì torna la scassada del Zenerussi e Flaminio stavolta ha sorpreso davvero anche noi perché ha deciso che il Zenerussi non è che deve scappare quest'anno. Quest'anno si traveste da portiere dell'Atalanta e con la scusa che l'Atalanta è in Champions League quindi può andare in Europa e da lì tentare la fuga e quindi di scappare. Però i nostri giovani andranno a catturarlo, lo porteranno come sempre in corteo nel centro storico per poi andare a bruciarlo come vuole la tradizione. Quindi poi Flaminio ci sorprende ogni anno con le sue idee e devo dire che sta sempre anche al passo con le idee e quindi davvero sarà ancora una bella edizione della scassada del Zenerussi. A dire la verità quest'anno di freddo ne ha fatto poco perché bisogna dire anche la verità, magari si valuterà di spostarlo alla fine di marzo tra qualche anno a parte la battuta. Però davvero il rito, la tradizione continua e noi siamo orgogliosi di portare avanti questo rito che rappresenta per Ardesio un po' una sorta di capodanno perché per noi è il 31 del mese più importante, quello del 31 di gennaio. L'appuntamento è come sempre di quelli ghiotti ad Ardesio perché la mattinata vedrà ancora il ripresentarsi del processo quindi i ragazzi di quinta elementare andranno a processare il Zenerussi, quindi dovranno stabilire se è colpevole o innocente e quindi decretarne la messa a rogo oppure no. Ovviamente sappiamo che sarà colpevole quindi dovremo mandarlo a rogo, però ogni anno è bello fare una riflessione anche sui temi dell'inverno, quindi l'accusa il gennaio di essere un mese rigido, un mese difficoltoso anche anticamente, soprattutto nella vita contadina, gennaio era proprio il mese più difficile, tra l'altro su una riflessione che il professor Mocchi mi faceva l'altra sera, nella vita contadina era un problema il gennaio perché i mariti, gli uomini tornavano a casa e quindi erano delle bocche in più da sfamare in casa perché invece di solito il resto dell'anno erano via per lavoro, quindi anche questa è una riflessione importante, era davvero un mese duro. Ovviamente invece la difesa cercherà di sostenere il fatto che è un mese importante per le stazioni sciistiche, per chi vende la legna, quindi per il riscaldamento, però ovviamente dovremo accusarlo e quindi verrà mandato a rogo anche questo 31 gennaio 2020. Quest'anno il gruppo ospite è ancora sardo, ancora dalla Sardegna, vengono a trovarci tra l'altro in Sardegna, terra di riti e terra di grandi gruppi folcloristici e tradizionali, abbiamo trovato questo Boes e Merdules che sono davvero rappresentano, sono in provincia di Nuoro, ad Ottana precisamente, e rappresentano anche loro una tradizione un po' simile alla nostra, sempre sul discorso di risveglio della primavera. Quindi l'appuntamento poi ovviamente alle ore 20, il 31 di gennaio, porteremo, faremo questo grande corteo in tutto il centro storico per poi arrivare in piazza Montegrappa dove c'è sotto le poste per andare poi a bruciare come ogni anno il Senerù. E adesso lo sport, continuiamo a seguire le gare di sci del circuito provinciale Fisi, questa sera spazio allo ski cross con la gara ospitata dalle piste degli spiazzi di Gromo, organizzata dallo sci club Ubi Banca-Goggi e riservata alle categorie Pulcini. Daniela Zinno, organizzatrice Ubi Banca-Goggi, allora questa è una gara un po' particolare, diversa dalle altre. Quali abilità tecniche sono richieste ai giovani sciatori, secondo te? Allora, lo ski cross è una delle specialità nuove del panorama dello sci, per la prima volta viene introdotta nel circuito provinciale, quindi è una prova che viene inserita ufficialmente fra le prove dello sci alpino. Mi sembra una scelta molto intelligente, visto che lo ski cross è una specialità olimpica, visto che gli sciatori avranno a disposizione per potersi esprimere più specialità, che le sfruttiamo tutte e soprattutto che le insegniamo ai bambini. La pista è divertente, ci sono gobe, ci sono salti, ci sono paraboliche, quindi i bambini si divertono. E' chiaro che poi trovare la tecnica, siccome è la prima esperienza che facciamo, trovare la tecnica giusta per affrontare questo tipo di specialità ci vorrà un po' di tempo, però lo sciatore che è bravo, che sa sciare, direi che trova abbastanza velocemente tutte le strategie più utili. Ski cross, era questa la novità, Ubi Bankagogi, grandi organizzatori, allora com'è andata? È andata molto bene perché innanzitutto i ragazzi sono arrivati quasi tutti, è importante, non si è fatto male nessuno, quindi questo dimostra che la cosa principale in specialità nuove, anche con una certa velocità, sia sempre la sicurezza, quindi mettere i ragazzi al sicuro. Abbiamo avuto la possibilità di costruire, grazie alla stazione Agli Spiazzi che si è resa veramente disponibile, li ringraziamo, il signor Testa e tutto il suo staff, costruire 14 movimenti speciali, previsti peraltro dal regolamento, tra cui dei salti, delle onde, delle paraboliche o parabole come vengono chiamate, insomma una cosa molto bella, delle whoops, i ragazzi hanno potuto prendere pratica tutta settimana, quindi oggi era una conferma, però c'è stata una novità e questa è la bellezza dello sci, c'era cambiato il tempo, ieri si era fatta una piccola nevicata, oggi molto umido, quindi ieri c'era ghiaccio vivo in prova, oggi c'era una neve tutta da adattarsi e quindi credo che i ragazzi anche sotto questo punto di vista abbiano fatto un'esperienza molto bella, molto importante. Simone, migliorati, miglior tempo delle categorie a cuccioli di questo ski cross, Roby e ski team, allora come è andata? Sei contento? Sì, sì, è andata molto bene, la pista era bella, è organizzata bene, è il tracciato bello e... Come è andata con queste paraboliche? Tu in che modo le hai affrontate? Perché ognuno le hai affrontate un po' in modo diverso. Ma ci siamo allenati abbastanza tanto in allenamento e sono riuscita a farle bene. Ti piace questa disciplina? Preferisci, che ne so, il gigante, il super gis? Ma è uguale, però mi piace. Qual è la più grande difficoltà di questa disciplina in particolare? Tutto abbastanza facile, un po' i dossi e le paraboliche, ma abbastanza facile. Melissa Caranoni, Sciclub Orezzo, miglior tempo di questa prova femminile, sei soddisfatta di questo ski cross? Sì, sono molto soddisfatta. Il prossimo obiettivo di queste gare sarebbe vincerle. Ma ascolta una cosa, qual è stata la difficoltà tecnica di questa prova? Che è un po' diversa dalle altre, no? Paraboliche, salti? La difficoltà più grande è stata la prima parabolica, perché dovevi prenderla giusta, se la prendevi sbagliata erano secondi che perdevi. E adesso un nuovo appuntamento con la rubrica racconti di ieri. Mino Scandella ci fa conoscere un'altra opera del pittore Giovanni Trussardi Volpi. Sempre di Giovanni Trussardi Volpi, il ritratto dell'ingegnere Vigilio Castelli, 1854-1907. E appunto l'opera, filmata in basso a destra, è del 1907-1908. Vigilio Castelli è un personaggio di spicco nella storia locale, appartenente a una famiglia importante, un liberale post-risorgimentale, sindaco tra il 1895 e il 1899 e tra il 1902 e il 1907, quando è anche consigliere provinciale. È un ritratto dopo la morte. Molti sono stati commissioni per ritratti nei mesi in cui Giovanni Trussardi Volpi sottolineava a Clusone, provenendo da Roma. Forse questo proviene dal legato Trussardi Volpi del 1924 al museo, ma in realtà la provenienza è probabilmente diversa. Viene probabilmente dagli eredi Castelli che lo legarono direttamente al museo nel 1924, quando appunto si stava aprendo. Personaggio rappresentato di tre quarti, in posa tradizionale, con torsione a destra della testa, rispetto al busto, rivestito di giacca scura a doppia bottonatura, da cui emerge il colletto con il cravattone. La torsione della testa, rispetto al busto, ha lo scopo di ottenere effetti di luce diversi, con il leggero chiaroscuro che ammobilisce il volto, invece di scavarlo quando invece la posizione è frontale. Lo sguardo è serio, meditativo, onesto. La fronte è alta, accarezzata a destra dalla luce, dietro le lenti degli occhiali, appena accennati, con una montatura fatta di un piccolo capolavoro di sottili linee luminose. La giacca scura, l'insieme del viso, serio, ispira rispetto e considerazione per una persona che sembra essere sicura e affidabile, così come deve essere un personaggio pubblico. Lo sfondo è in movimento, quasi impercettibile e leggero, grazie ai tocchi brevi e leggeri del bianco su azzurro, su grigio, che si schiariscono intorno al volto. Il tratteggio è leggero anche nei dettagli della barba brizzolata, nelle sopracciglie e nelle variazioni del colore dei capelli. La paziente, l'efficace e la presentazione realistica del viso, con la minima trasparente variazione di luce dal naso agli zigomi e agli orecchi, ci ricorda gli insegnamenti dell'Accademia, dai quali però il pittore si sta staccando, utilizzando in modo più intenso e efficace, la luce e la gradualità cromatica. Ci aspetta una pausa, torniamo tra poco con la parte finale. Riprendiamo con il nostro telegiornale verso la conclusione con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale, questa sera al termine del Tg, nuovo appuntamento con la tombola di Don Bosco, a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20.20 l'Alpino, il notiziario dell'Associazione Nazionale Alpini, a seguire Decoder, poi alle 21.30 Ski Magazine, alle 22.00 più Salute News, alle 22.30 la seconda edizione del Tg, alle 23.15 Antenna 2 Sport. Il canale News 218 propone alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera un servizio dedicato a Sacre Scene, il Festival del Cinema dedicato alla devozione popolare che si terrà nel settembre di quest'anno ad Ardesio. Il canale sportivo, 628 alle 20.30, Antenna 2 Sport, alle 21.30 la partita di calcio, Vertovese-Zingonia-Verdellino. Adesso l'Almanacco, domani è giovedì 30 gennaio, il sole sorge alle 7.40 e tramonta alle 17.27, la luna è crescente, sorge alle 10.34 e tramonta alle 23. La Chiesa ricorda Santa Martina. E infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi, il Lombarde è abbastanza soleggiato, con qualche velatura, aumento della nuvolosità nel pomeriggio sera, temperature in aumento. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.